ma principalmente lo è stato per i giovani di Piedimonte e io faccio parte di quella schiera di giovani perché mi precedeva di sette anni, abbiamo fatto azione cattolica insieme lui è rimasto l'artigiano propeso verso gli altri, è altruista per eccellenza ancora oggi ci sono giovani che svolgono l'artigianato di marmista Piedimonte che sono usciti dalla sua scuola per Bruno non...